23 anni disoccupato ed ora accusato di reati contro la salute di sostanze stupefacenti e macellazione clandestina. Pietro Cappello è stato arrestato nel corso di un'operazione congiunta del NAS di Palermo e dei carabinieri del comando Compagnia di Piazza Verdi. Sarebbe lui il responsabile di quanto scoperto in un casolare diloccato ricadente in terreno demaniale dell'ex riserva reale periferia ovest della città. L'operazione dei carabinieri volta all'individuazione e repressione delle stalle abusive in città e in periferia ha consentito pure di scoprire un vero e proprio vivaio per la coltivazione della cannabis indica. 27 piante in fiore aventi un'altezza di oltre un metro e mezzo, luce e riscaldamento gratis. L'intera struttura con annessa a stalle e in proprio locale mattatoio era infatti alimentata da corrente elettrica proelevata in maniera abusiva. Serviva ad alimentare lampade, un sistema di aereazione, riscaldamento, due congelatori a pozzetto dove era stata occultata la carne già tagliata per la vendita, oltre ad alcuni frigoriferi del tipo familiare. Nei locali vertebre, resti di pelle, cotenna di maiale, parti anatomiche probabilmente di cavallo e l'alimento. Tranci di carne pari a circa 130 chili già tagliati per la vendita, oltre che le stigliolo, ovvero il budello di ovino da farcire con porri e arrostire per le vie di Palermo. Nel fatiscente locale adibito alla macellazione trovati utensili come un martello per stendere la carne, coltellaci, bilance, ganci metallici e un bancale. Tutto posto sotto sequestro, così come i numerosi animali ritrovati. Si tratta di piccoli animali da cortile, più di 10 suini, 4 vini, 7 bovini, tutti sprovvisti dalla necessaria documentazione sanitaria del microchip. Nella stalla erano presenti anche 3 cavalli, per due dei quali la proprietà è in corso di accertamento. Il valore complessivo del sequestro ammonterebbe, secondo gli inquirenti, a circa 200.000 euro, chiamati dai militari sia i tecnici dell'ASL che gli operai dell'Enel. Grazie a tutti.